Benvenuti, questo è l'appuntamento di Ben Godi, puntata di oggi dedicata alle settimane oncologiche, perché parleremo delle problematiche con la prevenzione oncologica, le attenzioni che si deve avere, qualificati ospiti nei nostri studi, sia dei farmacisti, delle farmacie private, Federpharmacy, delle farmacie comunali, ma non solo, anche medici qualificati e poi anche la presenza del calcit. Prima di scoprire i dettagli in studio mi collego subito, vedo i gradi esposti fuori, con l'esterna, con la collega Simona Santi Laurini. Sì Alex, io e Sauro Cardetti siamo on the road, come si suol dire, siamo sul pezzo, siamo venuti alla farmacia comunale numero due, la farmacia comunale del Trionfo, per capire qual è il ruolo di questi professionisti in quello che è il percorso dei pazienti al di fuori del ricovero ospedaliero. Abbiamo tanti argomenti, quindi io entro a tra pochissimo. Va bene, molto bene. Allora, prima di sentire i nostri interlocutori in studio, direi di dare un quadro con Marcello Caremani, che è specialista in malattie infettive e oncologia clinica, ha una lunga storia, già direttore di unità operativa, anche all'ospedale San Donato di Arezzo. Volevo subito capire, malattie oncologiche in Italia, più o meno, dottor Carimani, a che numeri siamo? Che percentuale delle popolazioni riguardano? La popolazione italiana, chiaramente un po' come tutti i paesi industrializzati, così chiamati, ha una discreta incidenza delle malattie tumorali, anche perché il nostro stile di vita è cambiato negli ultimi anni e di conseguenza anche i rischi oncologici sono aumentati. Le grandi battaglie fatte nel passato hanno portato delle grandi conquiste. Una delle prime grosse battaglie è stata contro il fumo, che ha portato a una riduzione, però ancora siamo molto lontani da aver ottenuto i risultati di una riduzione consistente di questo problema. Vediamo che, sappiamo bene che in ogni famiglia consistente, il rischio di avere un familiare con neoplasia, con un tumore maligno, è un rischio reale. Questa è la prima condizione importante. C'è da dire che in questi ultimi anni noi parliamo di prevenzione, ma ci sarà chi parlerà in queste settimane di terapia, perché la terapia ha avuto un balzo in avanti notevolissimo, determinando sia dal punto di vista chirurgico, quelle nuove tecniche, sia dal punto di vista chemioterapico e di radioterapia, di una netta riduzione della mortalità e quindi un lungamento della sopravvivenza. Allora, una cosa che mi interessava anche sapere, poi tanto torneremo con lei, professore, ci sono dei fattori, primo messaggio, lo diamo, quali sono i fattori di rischio in genere legati al cancro? Il primo fattore di rischio è la genetica, si rischia di più in quelle famiglie dove c'è una maggiore incidenza di tumori. Vedi il cancro colorretto, di cui sappiamo benissimo, alcune patologie, gli adenomi del colon, la sindrome di Lynch, sono sicuramente la genetica. L'altro chiaramente è l'alimentazione. Abbiamo visto grandi cambiamenti, dico, da quando abbiamo un pochino, scusami, abbiamo abbandonato un po' la nostra, direi, importante dieta mediterranea che permetteva veramente una riduzione dei rischi oncologici dal punto di vista dell'alimentazione, l'aumento dell'obesità in questi ultimi anni e poi lo stile di vita. Il stile di vita che vuol dire l'uso del fumo, perché non è un problema di abuso, uso del fumo, perché il fumo non è un problema di abuso. Abuso si può dire dell'alcol, va bene, perché di conseguenza dico, noi in Toscana non possiamo dire che bere mezzo di vincere di una pranzacena è un abuso di alcol, è soltanto un modo di vita e di alimentazione, ma l'abuso dell'alcol insieme al fumo lo determina. La vita sedentaria che di conseguenza comporta insieme a un'alimentazione scorretta un aumento del peso, un aumento del peso che sappiamo bene che aumenta il rischio per esempio di tumori color retto, che si dice c'è una componente genetica, ma c'è anche una componente alimentare che sicuramente questo consiste nel determinare, nel far sì che l'aspetto genetico possa essere modificato negli anni d'acqua. Poi continueremo su questa visione, io volevo prima di collegarmi, oppure con Simona, Simona ti vuoi collegare o posso far sentire il saluto dell'amministratore delegato? Dimmi tu, posso mandare Sisani? Come preferisci, noi siamo già pronti, se vuoi far sentire il saluto noi ti aspettiamo. Sì, allora sentiamo Massimo Sisani, l'amministratore delegato delle farmacie comunali, un minuto e 40 secondi sono, sentiamolo. Massimo Sisani, amministratore delegato delle farmacie comunali di Arezzo, sempre di più le farmacie comunali legate alla prevenzione. Ciao Alex, le farmacie comunali in prima linea per la prevenzione, in particolare per la sensibilizzazione alla prevenzione oncologica perché è proprio lì che si vince la sfida. Dobbiamo far sistema, le farmacie, le associazioni, il mondo medico che segue strettamente poi le terapie per chi purtroppo è colpito da patologie oncologiche, ma tutti insieme dobbiamo sensibilizzare il cittadino alla prevenzione perché, come dicevo prima, è proprio lì che si vince la sfida perché arrivando prima, applicando i giusti protocolli di attenzione e prevenzione riusciamo a dare le migliori risposte come poi il mondo della salute e il mondo medico in generale, le migliori risposte a chi deve affrontare percorsi a volte anche complessi come quelli oncologici. E quindi il farmacista sempre di più presidio di un territorio? Certamente, sempre di più presidio del territorio, sempre più vicino al cittadino, vicino anche al cittadino che affronta problemi complessi come quelli di cui stiamo parlando e quindi la prossimità, la vicinanza di un professionista che aiuta, sostiene e accompagna nel suo ruolo il cittadino in questo percorso così complesso, è uno di grandi supporto a volte anche risolutivo perché poi un benessere psicologico aiuta anche il successo delle terapie. Allora, io ringrazio molto il cui avevamo registrato il streaming, adesso passo direttamente Simona Santi Laurini, sei nella farmacia? Prego, a te, la linea. Esatto, sono la farmacia comunale 2, come gli abbiamo detto, sono con la dottoressa Cinzia Francini che ormai è un volto noto per i nostri telespettatori e avete introdotto l'argomento quindi noi vogliamo capire da lei che è appunto sul territorio quello che è il ruolo del farmacista, della farmacia nel territorio e quello che è anche la vostra formazione perché quando diciamo che siete professionisti formati non lo diciamo a caso. Direi assolutamente di no, infatti la nostra è una farmacia territoriale certificata in oncologia e quindi ci tengo a dire appunto del percorso che comunque ho iniziato nel 2018 a Roma e poi con vari corsi FAD, finito il primo anno con un altro corso residenziale a Roma sulla psico-oncologia appunto, quindi importante il trattamento, cioè l'approccio fondamentale al paziente oncologico o anche a chi per lui, che può essere il caregiver o anche il familiare. Ecco, quindi la formazione è a 360 gradi per far capire in una manciata di secondi in cosa consiste? La formazione ha riguardato ovviamente la cosmesi, quindi il trattamento della pelle perché si sa che comunque la pelle subisce... Tutto il corpo subisce ovviamente un cambiamento. Un cambiamento importante con chemioterapici o comunque in generale con qualsiasi terapia ci sono sempre degli effetti comunque collaterali, poi passando dalla nutrizione quindi un po' l'alimentazione, l'importanza di scegliere prodotti giusti senza eccedere in grassi, in alcol che possano aiutare a contenere quelli che sono purtroppo gli effetti collaterali. Quindi detto molto in breve, cioè l'utilizzo quindi anche di integratori specifici chiaramente sempre con un diretto controllo del medico oncologico. Questo sempre. Questo è assolutamente fondamentale, non si dà un integratore a caso, assolutamente. E anche l'utilizzo di medicina alternativa, tradizionale, complementare e anche qui si apre, si aprirebbe... Si apre un capitolo enorme e noi li vogliamo approfondire. Quindi Alex ti restituiamo la linea per tornare poi con la dottoressa a capirne qualcosa di più. Certo, assolutamente. Volevo chiedere al microfono se lo può passare a Sassoli. Allora Giancarlo Sassoli, l'amministratore delegato ha citato la collaborazione col sistema rete e devo dire che il Calcit in questo... Il Calcit non lavora tanto con uno scude, con tutte le iniziative per chi è colpito dai tumori. Perché è importante la prevenzione per il Calcit? Ma dunque, il Calcit è partito nel 78 ovviamente puntando sugli strumenti perché ad Arezzo il percorso ecologico non esisteva, non esisteva per fare un esempio molto semplice, un ecografo. Perciò uno dei primi impegni del Calcit è stato proprio quello di acquisire delle strumentazioni. Acquisite queste strumentazioni, devo dire che oggi il nostro ospedale San Donato è tecnologicamente adeguato, ovviamente abbiamo pensato all'assistenza domiciliare con il servizio scudo. E ora è il tempo appunto di lavorare e impegnarsi anche sulla prevenzione, in particolare sulla prevenzione primaria perché bisogna fare in maniera che arrivino meno malati al nostro ospedale. E oggi diciamo ci sono tutti i segnali e tutti cominciamo a prenderne consapevolezza, ma occorre ancora prenderne maggiore e questo deve coinvolgere tutti. Cioè non può essere riguardata solamente una parte, oggi deve coinvolgere tutti, perciò in questo caso parliamo delle farmacie che sono uno dei presidi più, che ci sono nei vari posti, anche nei paesi più piccoli come abbiamo nel nostro territorio. Perciò va affrontata la prevenzione primaria perché forse sarà uno dei campi che ci permetterà appunto di diminuire i malati, senza dimenticarsi che comunque oggi ci sono tante armi per combattere il campo. È vero, io a tale proposito c'è anche qua il nostro ospite e c'è il professor Canemani, però a Marcello volevo un piccola battuta, un minuto dopo, c'è ora per voi, è un interesse. Voglio sapere, mi ha parlato della prevenzione fondamentale primaria, attività fisica, no fumo, cibo, attenzione al cibo e la familiarità dell'appartenenza al gruppo, ma ci sono dei segni che possono aiutare a capire se eventualmente uno è entrato in qualcosa di pericoloso legato al mondo del tumore? Nella prevenzione primaria non ci sono segni perché il paziente ancora non si è ammalato, quindi non ha nessun disturbo. È nella prevenzione secondaria che noi dobbiamo agire per avere una diagnosi precoce che consente di arrivare in tempo per guardare il paziente, quindi primaria e secondaria. Primaria, per esempio, una cosa dicevo prima della genetica e del fumo, ma sappiamo benissimo che i figli dei fumatori che sviluppano il cancro non dovrebbero mai fumare perché il loro rischio si raddoppia o si triplica, perché hanno la genetica di rischio trasmesso dal padre e il fumo che la gente è ziologico che può sviluppare. Quindi di conseguenza, per la prevenzione primaria, io mi trovo d'accordo in linea con Sassoli e sul progetto che fa il calcite, bisogna agire su target di popolazione, cioè chi sono le persone che si possono ammalare di cancro? Familiarità, rischio alimentazione, fumo, abuso di alcol, quindi di conseguenza è su questi che dobbiamo trovare i sistemi come è stato fatto nel passato quando abbiamo iniziato a vaccinare all'inizio le persone a rischio per l'epatite B e poi tutta la popolazione italiana perché questo ha consentito la scomparsa del cancro primitivo del fegato secondario alla cirrosi dell'epatite B e quindi in conseguenza il target di popolazione allora era tutta la popolazione italiana. Oggi quindi dobbiamo avere attenzione a questi elementi e in base a questi poi scopriremo gli screening o come si può fare prevenzione primaria sempre con maggiore attenzione. Facciamo breve pausa, regia, poi torniamo dallo studio. Questo è l'appuntamento di Bengodi, stavo guardando la scaletta stiamo parlando delle settimane oncologiche dal 20 di aprile al 4 maggio si sta mettendo in evidenza tutto questo, il progetto che stiamo portando avanti con le farmacie comunali di Arezzo ma anche con le farmacie private. Non a caso qui oltre ai vari interlocutori ho Alberto Oloigi Luzzi che fa parte anche di Federpharma, giusto? Allora, ha sentito, no? Già stavo parlando della prevenzione. Prima di tutto, secondo lei fondamentale la prevenzione alle patologie post-Covid è cambiato qualcosa? Purtroppo sì, nel senso che dopo il Covid abbiamo assistito ad un calo in termini percentuali su quelli che sono i vari screening preventivi sulle varie patologie oncologiche e se il 2021 ci aveva parzialmente illuso perché aveva registrato un segno positivo ma d'altro canto confrontandolo col 2020 probabilmente era già un dato non così preciso sia il 2022 che il 2023 hanno dato un segno negativo quindi sicuramente come operatori sanitari, come i farmacisti anche noi siamo chiamati a riportare alta l'attenzione però il messaggio che vorrei dare è questo qualunque forma di sistema preventivo ovviamente ha come obiettivo primario quello di salvare delle vite però oggi non ci dobbiamo dimenticare che c'è un altro aspetto cioè la prevenzione consente nel medio e nel lungo termine il risparmio delle risorse sanitarie questo è un aspetto fondamentale perché è questo risparmio che può consentire poi di destinare queste risorse alla ricerca, all'innovazione, ai nuovi farmaci antitumorali quindi il messaggio in termini comunicativi che va dato al paziente in qualunque forma, in qualunque percorso di prevenzione è quello ok, tu accetti di partecipare allo screening preventivo non solo per te stesso ma soprattutto per la comunità lei per screening preventivo intende screening alla mammella giusto per dare sì, esatto, sì, alla mammella noi recentemente parteciperemo a quello che è lo screening sul tumore del coloretto che è stato promosso dalla nostra ASA cioè tutti quegli screening che possono sicuramente determinare appunto in termini numerici un risultato quindi la gente quando gli chiedono di partecipare allo screening il messaggio che diamo diretto è partecipate perché ne va della vostra salute ma anche tutto il sistema sociale esattamente wow, è in crescita quindi la problematica perché se abbassiamo la guardia assolutamente è in crescita e poi ripeto oggi purtroppo non possiamo più abbassare la guardia soprattutto visto quello che sta succedendo dopo il covid quindi post covid, mi conferma Marcello Caremani che post covid è stata in questo senso visto che è un'oncologia clinica tutti i grandi disastri dell'umanità sono sempre stati un meccanismo di propulsione chi ha passato ha vissuto nel periodo dell'AIDS si rende conto che quando abbiamo iniziato a curare pazienti con AIDS non avevamo proprio niente quando uscì la ZT sembrava di aver trovato la mecca non era neanche un farmaco efficace ma negli anni che sono venuti a seguire dopo l'AIDS e così è anche la stessa cosa con il covid si è messo in moto un meccanismo grazie anche all'industria farmaceutica all'industria di ricerca perché senza loro, senza la ricerca non ci possiamo permettere sicuramente di fare salti in avanti l'AIDS ci ha proposto farmaci antivirali che non avremmo mai pensato di avere nel futuro la terapia per l'epatite C e adesso con il vaccino che hanno messo in campo sia Pfizer che l'altra grande industria dico già si pensa di utilizzare il sistema di allenamento messaggero per la cura dei tumori e quindi a dimostrazione chiaramente di questa situazione non peraltro, nelle settimane passate all'Istituto Pascale di Napoli che è un istituto oncologico del sud che non ce lo dimentichiamo non è un istituto di poco conto in una città di poco conto è un istituto veramente di alto livello stanno sperimentando la vaccinazione per il melanoma dico cosa che ci consente di proiettarsi nel futuro e di ridurre chiaramente un rischio importante dico quella malattia importante poi ci torniamo, volevo collegarmi allora con Simona Santilaurini un robot, prego Simona non so che c'entri con la prevenzione Sì Alex, siamo affascinati noi tra le novità che arrivano in farmacia anche se esulano dall'argomento di cui stiamo parlando però noi facciamo vedere la farmacia a 360 gradi ma torniamo sul ruolo sociale anche del farmacista che accoglie nel territorio i pazienti in questo percorso magari post ospedaliero io vorrei chiedere alla dottoressa Cinzia le richieste più frequenti delle persone che vengono qui per motivi appunto purtroppo oncologici Allora siccome si tratta comunque di un paziente deospitalizzato che comunque fa quindi delle terapie continuative a casa perché oggi è facile utilizzare compresse visto le nuove terapie per via orale target quindi e chiaramente si presentano comunque sempre dei piccoli problemi diciamo classici che possono essere a parte i problemi della pelle ma problemi di dolore problemi di disenteria nausea nausea sì anche inappetenza collegata ovviamente sì tantissimo e quindi tante piccole cose che in effetti c'è un po' di titubanza forse a chiedere perché comunque ancora il farmacista non è visto ben strutturato a rispondere bene a questi pazienti infatti si sa che comunque almeno qualche l'IOM aveva dato questi percentuali un po' di tempo fa l'85% comunque di questi pazienti poi torna a rivolgersi al proprio oncologo giustamente fra virgolette però siccome sono tutto sommato piccoli problemi che se il farmacista ne ha conoscenza è formato in questo quindi diciamo ecco gli effetti collaterali sono uno degli argomenti sui quali voi siete appunto formati potrebbe dare un aiuto cioè sollevare da queste piccole cose l'oncologo che magari deve pensare ad altro perfetto quindi questo Alex comprendiamo anche in un'ottica di collaborazione a 360 gradi tra professionisti e questo è il futuro questo ce l'auguriamo perché personalmente non mi muovo se non sono sicura e comunque mi auguro proprio che ci sia ci possa essere una collaborazione con l'ospedale in questo caso chiaramente di Arezzo per poter dare delle risposte solo questo risposte giuste alle persone che comunque hanno questi tipi di problemi e si rivolgono a noi o che si potranno rivolgere in questa nuova ottica anche perché in questi casi c'è davvero bisogno di sentirsi accolti e magari poi parliamo anche di quello appunto che è l'aspetto psicologico di questa patologia d'accordo d'accordo e allora a tale proposito visto che avete voi lanciato questo tipo di messaggio sentiamo anche cosa dice il presidente delle farmacie comunali anche lui un messaggio brevissimo di pochi secondi per ribadire questo concetto del sistema perché il messaggio è mi sembra quello sentiamo un po' Fabrizio vai con il presidente delle farmacie comunali Ennio Duranti vediamo di capire prevenzione oncologica è un'altra delle interessanti iniziative che volete portare avanti certo la prevenzione oncologica è fondamentale perché a volte bastano pochi indizi pochi sintomi poche sensazioni determinate in determinate condizioni in determinate situazioni che se esposte raccontate a chi magari se ne intende ti può dare un consiglio per per fare indagini approfondite cercare di capire poi se c'è da preoccuparsi oppure la cosa è risolvibile in altro modo ecco io direi che soprattutto in questo periodo che ci stiamo avvicinando eh all'ambito estivo per esempio la prevenzione e con e con i CACIT ci siamo messi proprio d'accordo per iniziare una una grossa estensione dell'argomento problematiche e dermatologiche legate al sole Presidente perciò farmacie comunali e associazioni di diverso ambito nel territorio un legame sempre più stretto io spero di arrivare ad avere legami sempre più stretti e a darci veramente una mano l'unico problema è chiarire in modo come si potrebbe dire definitivo e che tolga qualunque dubbio che le farmacie non vogliono sostituirsi agli specialisti ai medici specialisti ai reparti ospedalieri perché chiaramente non siamo in grado di poterci sostituire ma di dare una mano importante e fattiva sì grazie grazie al Presidente Ennio Duranti delle farmacie comunali di Arezzo Sassoli è stato chiamato in causa no? è stato chiamato in causa avete già fra l'altro proprio su questo concetto della prevenzione primaria mi sembra che non si possa uscire da questo tipo di azione la collaborazione anche perché noi diciamo come associazione siamo fra quelle associazioni che stimolano più di tutti la cittadinanza anche nelle nostre varie iniziative muoviamo tante persone tanti bambini perciò possiamo incidere veramente fare qualcosa perciò la collaborazione è obbligata perché in questo caso se vogliamo appunto sia parlare di prevenzione primaria ma anche la prevenzione secondaria l'adesione agli screening per esempio mentre sulla mammella è abbastanza buona per esempio sul colorretto è sotto il 50% come dicevano ultimamente eppure allora utilizzare perché non utilizzare questi strumenti dove in particolare sul colorretto veramente salva la vita perché se se ti trovano una piccola cosa e la tolgono te hai sul colorretto uno dei grandi problemi perciò diciamo questa qua la collaborazione deve essere veramente fra tutti un'altra categoria io le ho detto in qualche occasione che deve scendere in campo sono i sindaci perché il sindaco del piccolo paese conosce meglio quel territorio e comunque quindi può invitarli a fare prevenzione certo io penso che il sindaco almeno in certe occasioni dell'anno possa invitare i propri cittadini a fare prevenzione a parlarne a sensibilizzare perché come ripeto se si entra in campo tutti forse ce la facciamo allora Giancarlo Sassoli molto preciso qui c'è proprio una farmacista una giovane farmacista Alessia Peruzzi farmacia comunale 5 San Giuliano nei dettagli voi che cosa avete previsto giusto per dare una piccola assaggio poi faremo proprio una una puntata su tutto questo assolutamente sì quello che facciamo in collaborazione appunto col calcite è la possibilità di avere un dermatologo molto noto qui ad Arezzo nei nostri studi medici su di sopra della farmacia in modo tale di poter cercare di effettuare una prima prevenzione quindi delle sedute di visite per quanto riguarda almeno per quello che riguarda noi di visite dermatologiche per quello che riguarda una mappatura dei nei quindi un controllo sui primi sintomi di un melanoma che come sappiamo è uno dei tumori che può colpire la pelle è uno dei tanti però sicuramente uno dei più diciamo gravi uno dei più importanti se riusciamo con questi atti preventivi a prendere in tempi allo stadio zero queste tipologie queste problematiche sicuramente limitiamo degli effetti colaterali avversi tu sei di una generazione il collega farmacista tu sei della farmacia comunque dell'attuale di Saione storica vi ricordo che ok farmacia di Saione privata legittimo di Federfarma sempre lui è una generazione e tu un'altra la gente ascolta quando gli si dice le cose se ha fatto gli screening curiosità o se sono sensibili alla primaria la prevenzione primaria la prevenzione è importante sì la gente ascolta nonostante la mia giovane età diciamo così perché a differenza magari di vedere una figura più adulta sicuramente il consiglio è più importante però si ascolta soprattutto perché hanno un'incidenza maggiore negli ultimi anni soprattutto in età che non sono solo sopra i 50 anni almeno per quello che riguarda il melanoma ma colpisce anche i giovani adulti quindi ragazzi dai 30 ai 50 anni quindi tu come mediatrice in questo senso ecco il giovane adulto è fondamentale no no sto constatando non mi ero reso conto della della vastità del problema sì se ne parla ma sentire quattro teste diverse quattro visioni diverse e tutte vanno lì ti impressiona costo sociale come ha detto il farmacista assolutamente assolutamente wow ora io mi ricollego fra poco facciamo breve pausa poi mi ricollego con Simona Santiero Aurini per dalla farmacia la vedo è già inquadrata breve pausa Fabrizio e poi torniamo attenzione ripartiamo i miei ospiti bellissimo Fabrizio vi puoi far vedere sono assolutamente reattivi sta parlando Caremani che dall'altra esperienza ma anche dello studio della ricerca ogni tanto ci illumina a me diverte ascoltare perché imparo un sacco di cose ho dei farmacisti ho calcit però mi ricollegherei con la carissima Simona Santiero Aurini in esterna perché Simona stiamo parlando di settimane oncologiche 20 aprile 4 maggio parola tua vai parola tua vai anche noi vogliamo dare il nostro contributo sull'argomento del melanoma anche perché lo avete detto voi è uno tra i tumori più diffusi anche perché non ci pensiamo mai dottoressa ma la pelle in fondo è uno degli organi più estesi e quindi aumentano purtroppo le percentuali è l'organo più esteso esteso del corpo piace anche del corpo umano e chiaramente come tipologia di tumore il melanoma è solo l'1% dei tumori della pelle solo che è altamente aggressivo quindi prima si riesce a capirlo e meglio è e chiaramente il nemico principale è il sole quindi la causa del melanoma sostanzialmente la causa principale è il sole nella normalità chiaramente quindi il sole è amico ma il sole è anche nemico bisogna vedere come lo si prende chiaramente il melanoma ha anche cioè dei fattori diciamo modificabili si distingue proprio che è questo chiaramente il sole tu ti puoi comportare in un certo modo in un altro ce ne sono altri non modificabili che sicuramente è il fototipo della persona la presenza di nevi e quando ce ne sono oltre 100 è un limite ci deve essere un controllo molto accurato e regolare e regolare quindi la regolarità poi chiaramente la decide il medico il dermatologo oncologo che visita e come ci si può proteggere quindi dal sole diamo dei messaggi chiari e semplici semplicemente allora non si prende il sole dalle 10 alle 16 quindi nelle ore insomma peggiori in cui picchia di più detto in termini poco scientifici chiaramente la cosa migliore la protezione migliore è come ci si veste quindi pantaloni lunghi camice magari con le maniche e quando si è al mare il must quello diciamo che è uno dei peggiori fattori scatenanti di queste problematiche perché arriva c'è questo sole tutto insieme e è intermittente cioè nel senso che non ci si sta continuamente come può essere il contadino che appunto sta continuamente a lavorare l'aria aperta quindi a lavorare e però per fortuna se vogliamo ci sono questi prodotti importantissimi quindi parliamo di una protezione attraverso delle creme protezione solare lei consiglia una protezione totale una schermatura totale oppure se rimaniamo sui 50 le creme che mettiamo ai nostri figli va bene figli cioè quelli sicuramente sono i primi che devono essere protetti quindi a noi piace sempre parlare alle famiglie proteggete i vostri figli visto che ci siete usate la crema faremo una puntata proprio poi più avanti nel mese qui dedicata al sole io rientrerei Marcello Caremani ci sono delle domande che mi interessano su questo concetto delle settimane oncologiche ho capito allora screening mammella per le donne tumore al colon per tutta la popolazione le prevenzioni primarie sullo stile di vita alimentazione che comunque la prevenzione primaria è fondamentale anche per un'altra serie di tantissime patologie professori perché è questo che poi se uno ha un buono stile di vita si protegge senza dubbio dobbiamo pensare che per esempio il fumatore che fuma da 20-30 anni ha un rischio di insufficienza di respiratoria di bronchite cronica che lo porta poi in alcuni casi a dover essere aiutato dai broncopneumologi anche con l'ossigenoterapia non solo ma il più potente veleno arterioso è la nicotina e quindi il fumatore che ha dei danni arteriosi già preesistenti sa bene qual è il rischio ma ancora oggi c'è la battaglia contro il fumo scusi è stata molto abbandonata oh ecco ne sento parlare poco capito sembra quasi che la gente abbia smesso di fumare va bene per cui io penso ancora io ho smesso di fumare 40 anni fa ero un grande fumatore voglio essere sincero con il piacere di fumare e non ero ammalato non avevo nessun disturbo ma perché con la sigaretta in bocca davanti a un paziente gli smetti di fumare con la sigaretta in bocca era veramente la cosa più illogica che si potesse fare il primo obiettivo per il fumo notte del fumo sono i medici il personale cioè abbiamo fatto che cosa per il fumo divieto di fumare in ospedale divieto di fumare al cinema senza dubbio sono cose importantissime perché esiste anche il fumo secondario indotto e quindi in conseguenza molte persone dicono ma io non ho mai fumato mi ha venuto il cancro del polmone certo lavorava in un ambiente impiegatizio con tre persone che gli fumavano intorno e lui fumava quanto loro e quindi in conseguenza il fumo è obbligatorio fa smettere di fumare in tanti ambienti e cercare di portare la gente a capire che si può smettere la gente smette di drogarsi di usare la cocaina l'eroina si può smettere anche con il fumo anche se è da considerare come una potente droga e quindi in conseguenza ci vuole tutto l'impegno in ospedale è stato messo su l'ambulatore per il tabagismo ma ho visto che piano piano la gente si allontana sempre di più a questa condizione e pensa ma che vuoi che mi faccia 10 sigarette al giorno cioè la gente ha più paura fra i due dell'alcol forse che del fumo l'alcol mezzo pittina di vino quindi a 10-11 gradi non è un problema si diluisce con l'alimentazione che facciamo a prato 10 sigarette al giorno una sigaretta al giorno è sempre una cosa pericolosa favorevole o contrario alle sigarette quelle che dicono elettroniche sono contrarissimo bisogna consigliare la gente di smettere di fumare ecco scusate primo piano il prof bravo Fabrizio la camera è là dove c'è Chris guarda lì dove c'è il mio collega Christophe là ecco è lì professor Carimane dica 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 deve smettere di fumare le sigarette elettroniche sono da bandire va bene come si deve bandire il fumo è inutile mettere in una cosa si è fatto si è preso il pacchetto di sigarette c'è scritto guarda che se continua a fumare deve nel cancro ma dico io mi ricordo quando facevo oncologia a Torino va bene che andavo a studiare nella biblioteca c'erano dei grandi manifesti in cui facevano vedere i polmoni va bene e dentro i polmoni pieni di cicche di sigaretta e questa è la pubblicità più sbagliata del mondo si deve insegnare che cosa che smettere di fumare vuol dire stare meglio respirare meglio avere il piacere di mangiare di andare in un bosco e sentire il profumo dei funghi cioè di dare una condizione in positivo non in negativo negativo non serve a niente la gente non ha paura colpevolizzare non serve colpevolizzare non serve ecco c'è qui un farmacista Alberto Oloigi Luzzi anche di Federfarma farmacista privato diciamolo farmacia comunale d'Arezzo no la comunale la so via Veneto la sua privata di che terza generazione si è? terza generazione cioè lei è da tre generazioni farmacista esattamente ma gli diverte fare il farmacista? assolutamente o l'ha costretto il padre o il nonno? assolutamente no poi vedevo ecco mi ha colpito il percorso prevenzione come individuare pazienti a rischio in collaborazione con la regione toscana cioè i farmacisti fanno anche queste cose sì allora intanto noi partecipiamo già da anni a quelli che sono i vari focus nazionali delle varie fondazioni come la fondazione Veronesi la fondazione Cannavo recentemente abbiamo partecipato a quello che è il primo step che la nostra AS Toscana Sud-Est ha organizzato proprio sullo screening per il tumore è il colorretto ricordiamo che il colorretto è la seconda patologia più diffusa nell'uomo dopo il tumore alla prostata nella donna dopo il tumore alla mammella quindi stiamo parlando di una patologia estremamente importante da attenzionare la proposta che abbiamo fatto noi è stata questa andando sui numeri del nostro territorio noi abbiamo oggi un farmacista territoriale che mediamente ha 45-50 contatti al giorno con una persona se noi lo moltiplichiamo per il numero dei farmacisti che abbiamo sul territorio che sono circa 500 per il numero delle farmacisti che ci sono che sono più di 100 capite bene che diventa una forza vera diventa un numero estremamente importante che è ovviamente solo il punto di partenza perché poi quando si parla di prevenzione bisogna parlare oggi di un percorso magari ne parleremo meglio anche dopo però sicuramente questo aspetto qui deve far capire quanto sia importante coinvolgere tutti i professionisti perché altrimenti una prevenzione in termini numerici di risultati non arriva a quello che è il suo obiettivo che è quello di coinvolgere il maggior numero sì perché se ti arriva a casa una lettera ok spesso finisce invece se c'è il farmacista del quale comunque ti fidi che ha credibilità e te lo evidenzia hai un altro approccio credo che dovete essere consapevoli lo so che queste non sono cose che qualcuno dice ma non lo fanno per motivi economici no perché non è che vendi le medicine o hai ma io credo che il ruolo sociale ed etico il farmacista contemporaneo debba avere mi sbaglio non so se è un'evoluzione naturale che è fondamentale ma ripeto come dicevo prima perché è una responsabilità di tutti cioè non riguarda più la simbola ecco c'è Sassoli qui del Calcet voi siete oggettivamente un'istituzione a livello italiano apprezzata dai siete un simbolo della prevenzione diciamo la primaria è diventata ora importante voi siete da sempre per i macchinari quindi non si parla di prevenzione primaria ma si parla della cura delle problematiche la vostra attenzione ora sui bambini mi dicevate avete anche concentrato tanto sul mondo della scuola primaria cioè l'infanzia dunque intanto il Calcet è nato con i bambini perché il mercatino dei ragazzi anche se non appare nell'immediato però alla fine te nel mercatino porti dei bambini che attraverso il gioco acquisiscono sensibilità e quando diventano un pochino più grandi se lo ricordano a Rezzo ci sono tanti tanti adulti che hanno partecipato a bambini e oggi io sento quando li incontro anch'io ho fatto il mercatino perciò è un diciamo un progetto anche questo non scritto ma a lunga distanza poi noi abbiamo perché ovviamente noi questo lo facciamo come stimolo non come come nostra attività principale perché la nostra attività principale è l'acquisito diciamo l'acquisto di macchinari l'assistenza domiciliare però ovviamente siamo entrati anche su questo campo sono nove anni che portiamo avanti il progetto Giona noi abbiamo trovato Giona che poi vorrebbe dire giornate oncologiche a retine perché noi negli anni 80 ti ricordi facevamo le giornate oncologiche a retino dove venivano tanti scienziati chiamiamoli ad Arezzo e il progetto il progetto Giona in cosa consiste il progetto Giona è un progetto che è rivolto lo facciamo con quattro scuole tre medie superiori una media il comprensivo Francesco Severi poi c'è il liceo artistico il liceo scientifico e l'ITIS Galileo abbiamo insieme a professor Gallorini nove anni fa diciamo capovolto un po' non siamo andati nelle scuole a raccontare o a dire fate questo fate l'altro abbiamo dato insieme loro ovviamente insieme a loro a loro professori il tema della prevenzione perciò questi ragazzi in questo momento ecco la cosa stanno facendo adesso stanno facendo delle ricerche di base dove vanno a vedere perché il fumo fa male perché è meglio bere in maniera moderata è meglio è meglio muoversi e il 17 di maggio saremo alla borsa merce dove questi ragazzi saranno circa 200 di queste quattro scuole racconteranno ai loro coetane ma anche a noi adulti partecipazione attiva grande cosa hanno trovato e questo è di stimolo perché cerchiamo appunto fa la differenza carissimo Sassoli fa la differenza e acquisisce la consapevolezza e molto realmente e quello che diceva anche il professor Caremani l'imposizione non serve a niente la gente non è sensibile invece la consapevolezza e la condivisione è chiaro che se noi fossimo soli a fare questa cosa rimarresti in un angolo 6 sono d'accordo e qui bisogna noi a Rezzo siamo in una realtà che veramente possiamo fare la differenza però bisogna bisogna farla hai ragione allora lo ricordo Giancarlo Sassoli presidente del calcio di Rezzo mi ricollego fra pochi istanti con Simona andiamo in breve pausa Simona e poi tocca a te va bene cara? ok? penultimo collegamento vai breve pausa questo è l'appuntamento di Bengodi stiamo portando avanti un progetto legato alle settimane oncologiche dal 20 aprile al 4 maggio per sensibilizzare la comunità alla prevenzione primaria prevenzione primaria che vuol dire stile di vita non fumare mangiare con attenzione dieta mediterranea vi riassumo quello che hanno detto i nostri ospiti fino adesso fare del movimento e avere attenzione anche a un insieme di altri piccoli aspetti per esempio la protezione dal sole eccetera io prima di ritornare in studio con i nostri interlocutori che li ho tutti e quattro qui pronti a darci nell'ultimo giro Simona Santilaurini prego in collegamento tocca a te raccontaci e dacci qualche altro tassello sì voi parlavate di prevenzione primaria e questo è un argomento a cui tiene moltissimo la nostra farmacista quindi noi vogliamo dare dei messaggi come diciamo sempre semplici e inequivocabili per la prevenzione del melanoma ci farai una puntata specifica ma ripetita a Juvent anche perché andiamo verso la bella stagione e a questo le farmacie comunali tengono molto hanno preparato anche un opuscolo quindi il bignami diciamo così l'ABC della prevenzione sì si fa prima vabbè abbiamo detto di evitare l'esposizione eccessiva nelle ore peggiori quindi di coprirsi in maniera adeguata poi evitare le scottature quindi in questo caso ci saranno utili comunque le creme solari parlavamo degli indumenti una cosa interessante che mi ha detto se ci si veste di bianco in realtà il bianco fa passare devono essere scuri e diciamo il tessuto non sottile scuro scuro vabbè tagliamo la testa al toro scuro cappelli questo è importante l'abbiamo già detto e volevo far notare l'importanza di non usare lettini e lo dobbiamo dire lo dobbiamo dire anche se ci inimichiamo una parte della popolazione ebbè sì lettini lampade perché chiaramente ci arrivano gli UV B a tutta Randa ad un'altra concentrazione che può essere pericolosa maggiore maggiore di quella del sole e poi c'è una formula che mi è piaciuta molto ce la vuole dire? sì perché chiaramente possiamo fare un autoesame della pelle che è importante per tutti poi chiaramente verrà fatto tutti abbiamo i nei sì più o meno sì c'è chi lo dovrà fare con una frequenza maggiore in base chiaramente al numero dei suoi nevi o al fatto che sia però per fare una prevenzione homemade casalinga si segue questa formula è proprio come si chiama? la regola è A B C D E ossia si guarda la simmetria della lesione del nevo che si prende in considerazione si guardano i bordi se sono irregolari se sono cambiati il colore lo stesso se sta cambiando la dimensione quindi se si sta aumentando e poi quindi l'evoluzione in generale cioè se in 3-6 mesi cambia notevolmente il caso di rivolgersi ad un dermatologo quindi anche questo ci rappresenta quello che è il rapporto appunto tra la farmacia e lo specialista Alex a te davvero grazie io sto vedendo anche le immagini vedete i globuli bianchi i globuli rossi state vedendo i filmati che stiamo usando l'appoggio perché il nostro mondo è quello interno Carimani sorride perché De Duco è un mondo che per lui non è misterioso per tutti noi è da cartone animato vedere come siamo dentro i cartoni animati sono quelli che insegnano ai bambini sono una cosa importante ho fatto vedere prima vedevo gli infociti i macrofagi vedo che ha percepito per forza fa parte della mia vita da ormai 40 anni quindi quello è un insegnamento importante come diceva prima Sassoli che è una città particolare della nostra noi abbiamo iniziato con l'allora Ricci che era il presidente delle farmacie municipalizzate quando iniziò a fare dei dippiante di insegnamento va bene di educazione sanitaria che era estremamente importante e devo dire che quello che fanno loro adesso con la scuola dovrebbe esportarlo in maniera più ampia nelle scuole si parla di prevenzione e allora quando si parla di prevenzione non bisogna parlare di prevenzione alle malattie sessualmente trasmesse una di queste è l'HPV l'HPV oggi con i vaccini che ci sono è una valente si sconfigge non solo la malattia ma si sconfigge il cancro del collo dell'utero aspetta io voglio da lei poi che mi chiude il programma quindi la tengo lì volutamente che mi chiuda il concetto per il messaggio da dare volevo ripartizzare prima dai nostri l'interlocutore farmacie private Federpharma e te devo darla te la qualifica no giustamente con piacere fra l'altro sei molto preparato Alberto Alberto Aloigi Luzzi voglio sapere farmacie private percorso c'è l'evoluzione del sistema prevenzione e il ruolo del farmacista secondo te qual è la visione su queste tematiche chiaramente certo intanto dobbiamo dire che appunto la prevenzione ha subito un'evoluzione quindi è giusto andare dietro a questa evoluzione e oggi non si può più pensare di consegnare banalmente un campione ad un paziente ma ci deve essere innanzitutto una comunicazione attiva quindi come diceva cioè gli può arrivare a casa nella posta secondo noi no anche secondo me deve passare attraverso una comunicazione cioè far capire come dicevamo prima l'importanza poi però non possiamo neanche consegnare questo campione a pioggia cioè dobbiamo individuare faccio l'esempio concreto quando si parla appunto sempre di tumore al collo retto quelli che sono i pazienti prevalentemente quelli più a rischio quindi secondo chiamiamolo una sorta di priorità in farmacia per esempio noi andremo a evidenziare quei pazienti che hanno già delle patologie infiammatorie croniche intestinali il morbo di Crohn la colite ulcerosa la diverticolite è chiaro che quei pazienti sono i primi che dovranno essere attenzionati ovviamente non sono gli unici ci saranno poi una seconda graduatoria chiamiamola così che significa questo che poi questi pazienti dovranno poi ritornare a riconsegnare questo campione dovranno essere inseriti in una banca dati cioè si tratta di un percorso appunto a step che se viene fatto in maniera corretta ci consente questo l'avete proposto voi lo so proprio come FDR Pharma abbiamo proposto perché riteniamo che questo meccanismo consenta di portare a termine quello che è appunto un percorso preventivo che deve servire ovviamente a fare in modo che ci sia il maggior numero di persone che partecipano anche poi a fine del percorso a capire quello che è stato il risultato Perché voi farmacisti lo state facendo a questo? Lo stiamo facendo perché ci rendiamo conto in quella che è la nostra attività professionale quotidiana che purtroppo queste patologie sono sempre più frequenti quindi inevitabilmente anche in quello che è banalmente un paziente che arriva con una terapia farmacologica già in atto si possono evidenziare dei fattori di rischio e quindi questo è un aspetto che il farmacista proprio perché ha un contatto quotidiano quasi quotidiano col paziente è evidente che ha la possibilità anche di un feedback di ritorno che è immediato Alessia anche tu tu sei invece farmacia comunale numero 5 San Giuliano ecco quello che diceva il tuo collega direi della generazione precedente che non vuol dire che uno è meglio o peggio vorrei essere molto chiaro io sono ancora più lontano quindi però grande presa di coscienza da parte credo del farmacista in questo compito di prevenzione no? questo discorso sono molto d'accordo che la prevenzione oltre che autoprevenzione cioè noi stessi come soggetti proprio come persone dobbiamo aiutare a capire quali sono veramente le cose importanti le cose sul quale intervenire per prevenire allo stesso come farmacista in questo senso ci rendiamo conto che in realtà la popolazione il cittadino il paziente in generale ha bisogno di aiuto ha bisogno di un appoggio e ripeto nessuno si vuole sostituire ai medici bravissimo i medici il ruolo è fondamentale però ci sono certe domande come diceva la tua collega che voi potete saper rispondere l'autodiagnosi è un po' come si riguarda io da donna ne parlo sul trattamento la prevenzione del tumore al seno così come anche il melanoma mi viene in mente di dire quindi un'autoosservazione è piuttosto importante noi siamo le prime persone che possiamo controllare il nostro corpo quindi va a dire valutare come diceva la collega la dottoressa Frangini per quello che è le variazioni del neo stesso per quanto riguarda il melanoma quindi eventuali trasformazioni modificazioni in aspetto tempi colore dimensioni per quella che era la classificazione che un po' viene fatta proprio dal dermatologo quando abbiamo una nozione di una variazione di questo tipo bisogna rivolgersi a uno specialista quindi un primo il dermatologo che farà poi un tracciamento di tutto quello che è appunto sempre nel caso del melanoma la nostra mappatura volgarmente detta dei nei e di conseguenza andare a intervenire con delle tecniche che possono essere in primis un grandimento in epiluminescenza ti piace il tuo lavoro? molto si sentono come ne parli perché io vorrei dirvelo preparazione scientifica e tecnica io la do per assodata che la dovete avere però io credo che è molto importante che siate empatici cioè io sto percependo da voi che si cerca di riuscire a farsi capire dalla persona non a parlare perché parlare è farsi capire che è un po' diverso no? dimitemi se sbaglio eh? questa paradigma dal più giovane al più adulto eh certo ora mi ricollego con la farmacia eccola là sono già scherate le dottoresse il dottore prego Simona Santi Laurini vai come da tradizione ormai i nostri saluti sono al di qua del bancone perché io ormai per questo retta di Bengodi mi sento parte della loro famiglia del loro staff noi ti salutiamo ma vogliamo dedicare 30 secondi se ce li concedi ad un punto fondamentale io vorrei chiedere alla nostra dottoressa quanto è importante l'aspetto psicologico in questi percorsi non solo per i pazienti e anche per i familiari che subiscono comunque questa situazione come voi li potete aiutare ecco dedichiamo un pensiero alla parte psicologica è sicuramente fondamentale quindi diciamo che fra virgolette è semplice perché il farmacista è abituato comunque ad ascoltare all'approccio con i clienti i pazienti e quindi non possiamo altro che fare la stessa cosa metterci anche nei panni di chi ti sta davanti esercizio difficilissimo ma utilissimo sapere ascoltare e quindi dare una risposta per indirizzare la persona verso un possibile una possibile risoluzione di quello che è il suo problema e allora questo non dimentichiamolo mai perché appunto sia il paziente che i familiari hanno bisogno di sentirsi banalmente semplicemente considerati e con questo pensiero noi Alex ti salutiamo con tutto lo staff schierato e ti restituiamo la linea grazie anche a Sauro Cardetti per la parte tecnica grazie alla farmacia comunale 2 Arezzo tra l'altro farmacia anche avete sentito ha un'esperienza la dottoressa Sassoli prima della chiusura che mi dovrà fare il professor Carimani Giancarlo presidente del Calcit allora ho capito che state lavorando progetto Giona sulla premia bellissima cosa la state portando avanti da 8 anni 9 bellissima cosa all'avanguardia come sempre siete avanti ma progetti futuri all'ora del Calcit quali sono su questo mondo dell'oncologia della prevenzione ma un altro diciamo progetto che si può dire nuovo lo abbiamo iniziato l'anno scorso noi abbiamo fatto ideato diciamo non io ma insomma altre persone la festa dei bambini la festa dei bambini che facciamo al centro affari e abbiamo coinvolto e si sono fatti coinvolgere molto veramente abbiamo coinvolto quasi tutto l'associazionismo di Arezzo e questa festa di bambini alla fine non facciamo raccolta fondi ma facciamo promozione di quelli che sono i buoni propositi le cose positive tant'è vero che ci sono le pubbliche assistenze c'è il 118 ci sono le associazioni sportive WISP CIS eccetera e questo abbiamo visto che sta riscuotendo molta attenzione perché alla fine i bambini le famiglie che entrano là vedono e partecipano a queste a queste iniziative e da lì si cominciano ad apprendere appunto questi corretti stili di vita ma anche modelli educativi e il secondo anno che abbiamo fatto quest'anno abbiamo anche coinvolto i sindaci del nostro distretto sanitario a retino perché vogliamo che appunto allargare perché più siamo e meglio è e questo è un altro progetto che sicuramente nel tempo potrà dare dei frutti specialmente da questo punto di vista di cose positive Complimenti a Giancarlo Sasso il presidente del Calcit e ti volevo chiudere col professor Carimani allora Marcello Carimani lo sapete già direttore di unità operativa malattie infettive oncologia clinica uno dei ricercatori italiani che si è sempre devo dire portato avanti nella ricerca e nell'innovazione qual è il messaggio oggi nelle società abbiamo c'è i reel questi giovani nei social c'è le cose che servono sta sotto un par di minuti che arriva il messaggio qual è il messaggio che vogliamo dare sul concetto della prevenzione oncologica professor Carimani te la ricordi la canzone possiamo fare di più io la cambierei in questo momento dobbiamo fare di più perché la prevenzione oncologica e io in un articoletto che scrivevo negli anni 70 prevenire è meglio che curare va bene è una dimostrazione chiara perché come diceva Sassoli perché adesso dico le coperte sono anche corte dal punto di vista economico nella sanità pubblica per cui più preveniamo meno spendiamo meno sofferenze ci saranno e più avremo a disposizione come già ci dicevano i nostri colleghi farmacisti a disposizione quelle risorse necessarie per poter investire nella diagnosi precoce nella cura dei tumori nei farmaci nuovi nei meccanismi diagnostici ancora più nuovi abbiamo fatto la pette quando ancora in Toscana non c'era nessuno grazie al calcit noi ci siamo trovati ad avere gli strumenti di grande livello ma perché perché la città investiva ma dobbiamo anche vedere di far spendere di meno la sanità pubblica e questo è possibile prevenendo le malattie prevenzione primaria è un obbligo dobbiamo fare di più questa è la cosa importante grazie grazie professore io ringrazio anche in studio il nostro responsabile Chris non lo dirò mai in polacco però stavolta sta tranquillo non ho sbagliato e in regia c'è Enrico Maestri e poi per la direzione del sistema grande Fabrizio Cocchetti davvero grazie a tutto il gruppo tecnico di Teletruria ricordate settimane oncologiche 20 aprile 4 maggio per divulgare presso le farmacie comunali in questo caso Arezzo avete sentito anche le farmacie private c'è una veramente un intero sistema che sta spingendo per la prevenzione primaria perché riusciamo a fare bene quindi grazie di averci seguito a tutti i nostri spingendo